Molto bene, sono molto contento del lavoro delle ragazze, siamo lavorato primo a Pescara una settimana e questi tre giorni che abbiamo fatto qui a Sicilia è andato molto bene per trovare un po' il 10 giocatrice per giocare qui l'EVT, ma l'EVT è una competizione più forte, tanti chi è squadra di grande livello e penso che può essere un buon lavoro per trovare queste 10 giocatrici per andare a Praga che è il nostro obiettivo Penso che la qualificazione europea sarà una competizione di buon livello, sì che ha 3-4 squadre che non conosciamo perché l'anno scorso non abbiamo fatto competizione, però penso che è un livello buono per noi è una competizione internazionale che è tanto interessante, non per fare la qualificazione sino per trovare questa squadra forte e preparare gli europei del prossimo grazie a tutti